Qual è la sua visione sull'intelligenza artificiale e poi la domanda delle domande? Prenderà o meno il sopravvento sull'uomo? La mia visione in maniera del tutto generale è che purché si investe in intelligenza che sia naturale o artificiale, comunque abbiamo da guadagnare. Questo vuol dire da un lato la formazione e dall'altro la tecnologia. Detto ciò, l'intelligenza artificiale è uno strumento potente per facilitare la vita all'essere umano. Come tutti gli strumenti tecnologici potenti va usato in maniera ragionevole, etica e soprattutto con conoscenza. A me piace dire che se immaginiamo di usare un cuscino per soffocare una persona ecco non si può dire che il cuscino sia un oggetto pericoloso, no? E come sempre è l'utente quello che rende pericoloso o virtuoso l'utilizzo di una tecnologia. Quindi alla fine io riconduco tutto a un principio di educazione dell'utente. Dopodiché ben venga qualunque sviluppo dell'intelligenza artificiale perché sarà utile se è ustilizzato bene. Come Leonardo sta lavorando per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? Negli ultimi anni abbiamo fatto un poderoso sforzo di digitalizzazione, di introduzione di tecnologia digitale già in fase di progettazione con i cosiddetti digital twin. Cioè una progettazione totalmente digitale delle piattaforme hardware più complesse. Stiamo introducendo AI in tutti i nostri prodotti ma anche nei nostri servizi. Addirittura la manutenzione predittiva, il training, le simulazioni. Abbiamo investito costruendo uno dei più potenti supercomputer al mondo, nel settore aerospace and defense, dopo NASA e Japanese Aerospace c'è il nostro. Associato ad un cloud molto grande e con un'interfaccia cloud computing estremamente veloce. Quindi abbiamo fatto un'infrastruttura molto potente, creato un laboratorio di artificial intelligence con centinaia di ragazzi che lavorano sull'utilizzo di AI e ora il nostro piano industriale nuovo sarà basato proprio sulla digitalizzazione dei prodotti e sull'introduzione di AI nei prodotti e nei servizi. Che occasione è questa tre giorni sul lago di Como per un confronto, per dialogare con tutti gli attori coinvolti in questa grande e delicata partita? A parte la bellezza di Como, che ci si viene sempre volentieri, io credo che questi siano momenti importanti perché sono materie e tecnologie di cui bisogna parlare e si deve creare una consapevolezza pubblica delle loro possibilità, anche dei loro pericoli, ma senza far diventare la discussione fantascientifica. Ripeto, il pericolo è associato al cattivo utilizzo e quindi alla scarsa cultura. Queste sono opportunità che consentono di migliorare la cultura generale, la conoscenza e poi agli operatori di guardarsi in faccia ed eventualmente di capire in che direzione andare.